Ciao, sono Mirko Pieri, insegnante di basso elettrico dei percorsi Academy di CMM. I corsi di questo comparto sono indirizzati a chi vuole approfondire lo studio dello strumento attraverso un percorso strutturato, con livelli e programmi didattici differenziati. I percorsi Academy offrono inoltre la possibilità di una valutazione finale con il rilascio della certificazione internazionale Pearson. Scegli questa tipologia di corsi se vuoi migliorare la tua tecnica sul basso elettrico o approfondire lo studio degli stili o dell'armonia applicata allo strumento. Nel mese di giugno ci saranno le prescrizioni. Ti invito a conoscermi e a conoscere i miei programmi, richiedendo un appuntamento con me attraverso la segreteria della scuola. Insieme individueremo il corso giusto per te. Ti aspetto!